Carrello porta lastra di vetro. Va marcato CE o no? Sul mercato si trovano tutte e due le versioni, quello marcato CE e quello non marcato CE. Tre mesi fa ho fatto un video analogo mostrando una foto dove raccontavo che questo carrello porta lastra di vetro era sbagliato marcarlo CE. Io non conoscevo il costruttore, mi era stata inviata questa foto da un follower che mi chiedeva un parere. E io ho fatto questo video, per dare una mano a tanti, con un'unica risposta aiuto più persone, dove racconto che un carrello porta lastra di vetro, non va a marcato CE. Perché non va a marcato CE? Perché la lastra di vetro appoggiata su questo carellino coincide con il carico e coincidendo con il carico non è un necessario sollevamento. E quindi facendo parte del carico non va a marcato CE, è in senso della direttiva macchina. E cosa deve avere questa documentazione di questo carellino? Che spesso viene inforcato con il moletto, viene agganciato con un paranco, viene spostato col caro ponte, sconda il peso e la dimensione. Deve avere una targhetta con ragione sociale, sede legale, il nome dell'oggetto, che spesso coincide con la destinazione d'uso, l'anno di costruzione, la matricola e identificarlo. Poi consiglio sempre di fare un manualetto di istruzione che spiega come controllare, come vedere se ci sono cricche, come vedere se le saldature sono fatte bene, come usarlo, come caricarlo, la dimensione, la pesantezza del vento, per dare dei limiti d'uso all'utilizzatore. E spesso questo le carpenterie non lo fanno. Ma non ci va il CE. Perché non ci va il CE? Il CE non va perché non rientra nel campo di applicazione di nessuna direttiva che appone il CE. Perché la foto che avevo mostrato nel video tre mesi fa mi ha contattato il costruttore di quell'oggetto e mi ha detto di rimuovere la foto. Perché mi ha detto di rimuovere la foto? Perché lui appone il CE e quindi gli davo noia. Quindi sto rifacendo il video. Ho tolto la sua foto, non faccio il suo nome, ma...